quando fai tante cose contemporaneamente pensi di essere molto intelligente e molto bravo a districarti tra mille cose in realtà stai facendo proprio del male al tuo cervello perché stai obbligando il tuo cervello a passare velocemente tra un'attività e un'altra tutte le volte che pensiamo di fare più cose contemporaneamente in realtà stiamo solo obbligando il nostro cervello a ricalcolare come fosse un navigatore il percorso per portare a termine quell'attività quindi ogni volta che ci spostiamo da una cosa all'altra il nostro cervello deve ricalcolare gli obiettivi di quell'attività qual è il prossimo passo da fare quali sono i passi da compiere per concludere l'attività quali sono gli strumenti da utilizzare passare velocemente da un'attività all'altra affatica quindi tantissimo il cervello anche se non senti biologicamente il danno che stai facendo al cervello in realtà te ne rendi conto perché quando fai più cose contemporaneamente ci metti molto più tempo a farle ma soprattutto non le fai bene non presti la giusta cura e la giusta attenzione alla cosa che stai facendo e quindi alla fine ti sembra di fare prima in realtà ci metti molto di più e soprattutto dovrei anche utilizzare del tempo magari per rivedere le cose o per correggere degli errori che hai fatto proprio perché ridistrato da altre cose quindi la cosa importante per abituare il cervello a non distrarsi in attività multitasking è quella di obbligarci a fare una cosa alla volta se ci abituiamo a fare una cosa alla volta ogni attività la portiamo a termine prima ma soprattutto la portiamo a termine con maggiore attenzione con maggiore cura scusate un secondo pronto a mamma quindi mi raccomando bisogna fare una cosa alla volta perché così ogni cosa ha la giusta aspetta scusa puoi ripetere perché non ho capito ok aspetto un attimo niente devo fare una cosa alla volta rispondo alla mamma ciao lunedì 8 ottobre a milano riparte morgana il nostro percorso in cinque tappe per organizzarti con gusto parleremo di spazio tempo denaro lavoro e cucina per iscriverti trovi tutte le informazioni sul nostro sito www.organizzatessen.it e per i primi quattro iscritti che porta un amico abbiamo pensato a una promozione speciale vieni a scoprire di che cosa si tratta ti aspettiamo